Ciao a tutti e benvenuti su Global Scream, io sono Ratorix mentre oggi siamo tornati su Raft Ormai ci siamo costruiti una nostra zattera, ormai abbiamo fatto anche una nostra piantaggione di palme Che cos'altro potrebbe mai mancarci? Hmm... ok Ratorix, pensa un attimo Pensa a quale argomento clickbait potresti usare per questo episodio Uccidiamo lo scu... ah no, quello l'ho già fatto Hmm... Oggi faremo una cosa che nessuno ha mai fatto su questo gioco Faremo una casa Cioè ragazzi scusate che cosa volete, la mia creatività si basa nel fare una casa 2x2 o 4x4 nel migliore dei casi E poi basta perché cioè ragazzi io non è che sono una persona così tanto creativa quanto possa sembrare, non ho fantasia Comunque stavo pensando di fare la nostra casa praticamente da qui Da come vedete ho già iniziato ad allargarmi un pochetto questo spazio qui E più o meno farò qua un passaggio, andremo leggermente più avanti Mi farò un'altra mini zattera in questo punto qua E dopo di che potremo iniziare a costruirci la nostra casa E secondo me dovrebbe essere questo qui l'obiettivo per questo episodio Non è che voglio fare proprio tantissimo Allora innanzitutto beviamo un attimo perché se no qua la signora ci romperà le palle fino al resto dei nostri giorni, maledizione Ok allora prendi questo, bevi e smettila di lamentarti Ok allora adesso da come potete vedere mi sono andato a fare un'altra cassa dove andare a mettere tutti quanti i nostri materiali Perché diciamo che per ora ne ho tanti Ma non ci preoccupiamo perché questi materiali andranno via abbastanza in fretta da quel che ne so Stavo pensando anche di farmene un'altra di cassa Ma prima di farmela mi serve il martello che ovviamente mi sono levato perché sono stupido ogni tanto Quindi a te ti metto qua, qua Dai iniziamo già a farci la base Non ci provare neanche Ti sei mangiato qualcos'altro? Per favore non mi dire di sì Diciamo che un'altra cassa me la metto qua Ma prima me la dovrei craftare magari che ne dite ragazzi Ok fatto Dove sei tu? Qua Ok a te ti metto più o meno così Non lo so penso che farò anche altre tre casse più o meno Vedremo mi servono adesso la legna per craftarmi un'altra maledettissima rete che mi è stata fregata da sciarco Blurido bastardo schifoso ti farò malissimo un giorno Ora no bastardo non ci provo Mamma mia se ti faccio sciarco perché sei così bastardo oggi Cioè io non lo so che cosa c'ha questo squalo a volte Ogni tanto impazzisce poi guardate quanti materiali oh mio dio sto godendo Troppi Ah sto perdendo roba Fuck sto perdendo roba oh mio dio non va bene Per favore non mi dite che siete scomparsi Ok ok prendi prendi tutto Fatto No sono scomp... maledizione sono scomparsi i materiali Adesso dove sta il martello Il martello lo faccio qua E più o meno stavo pensando di iniziare a craftarci una sottospecie di vietta per di qua Perché come lo voglio far diventare ragazzi In pratica qua mi faccio una mini vietta di tipo tre o quattro blocchi diciamo Che ne dite così va bene Sì credo che sia abbastanza lungo Dopodiché andiamo a mettere tutto quanto qua E mi inizio a craftare un pochetto più avanti Con diciamo la nostra base Stavo pensando di farla più o meno di questa lunghezza qua Qua mi vado ad allungare ancora di tipo... vediamo non lo so Aspettate lo voglio fare abbastanza simmetrico Perciò due, quattro, sei... no aspettate Due, quattro, sei... ok? Due, quattro... oh mio dio sarà una cosa gigante Mi sta finendo la legna non va bene questa cosa Che palle... ok allora Uno, due, tre, quattro e cinque E ragazzi mi sa che ho una strana impressione che qua non mi basteranno i materiali Oppure più che altro ci metterò un anno a farlo Ahhhh va bene ho capito Mi toccherà soffrire Facciamo adesso così E piano piano inizierò anche a riempire quest'area Ed ora ragazzi maledizione mi serve l'erba Mi serve la maledettissima erba I pezzi di... non lo so che cosa sono foglie Chiamiamole foglie Perché quando la chiamo erba ragazzi voi diventate paxerelli non per dire niente Perché dite oh mio dio ha detto erba Ho capito Allora mi ha dato quattro... sì mi ha dato quattro questa volta come mai Va bene sinceramente non mi offendo ho sentito uno squal... Ah bastardo Allora vediamo un attimo qua intanto ho già fatto tutto Inizio a continuarmi diciamo la base Perciò craftiamoci un sacco di... non mi stanno cadendo vero? Non mi stanno cadendo i materiali per favore Andiamo ora qua perfetto E craftiamo altra roba maledizione Oddio che palle non finiremo mai Ora facciamo questo Andiamo qui Sinceramente lo sto facendo altamente a caso in questo momento come capita Però non vi preoccupate Finirò magari entro domani Oh che palle Dove sei... oh mio dio Ma perché ad ogni episodio mi devi fare un jumps Eeeh E' lo sciarco più bastardo che io abbia mai incontrato Non è possibile che abbia distrutto tre cose e non sia ancora morto Oh vai! Uno, due, tre, quattro, cin... cinque e sei Plank, 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 oh mio dio gioco veramente Dammi le foglie, dammi le foglie, dammi Adesso che cosa ci serve? Per iniziare a costruirci la casa stavo pensando Qui faremo lo spazio per la porta Quindi Inizieremo a farci i muri da questo punto qua Facciamoci qua una finestra Perché ci sono anche le cose con la finestra se non sbaglio Sì, perfetto Cioè, che bello Mette quasi tristezza questa cosa ragazzi Veramente Faccio schifo nel costruire le cose No, 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 no So cosa vuoi fare So, no Ah, ok, non voleva Ma non è che tu stai tipo quasi per morire Vieni qua, sciarco, un attimo Ok, con calma Oddio, no Non ti fare il giro che sei scemo Vieni qua Ok, l'ho ucciso Ah, ti ho ucciso schifoso Finalmente Oh, quanto tempo che aspettavo questo momento Che ne dite Faccio un pochetto una finestra allargata qua Che questa qui sinceramente non mi piace La voglio fare leggermente più lunga Allora, facciamo così Metto questo qui Facciamo Wall window Ok, metto a te Perfetto Così almeno avremo una finestra leggermente più lunga Perché così mi sembra veramente piccolo lo spazio per vedere Io ci metterei pure Non lo so Una finestra qua, diciamo E un'altra finestra all'altro lato Ma adesso secondo me dietro non ci serve fare la finestra Ah, mi è finita la legna È la prima praticamente volta che mi finisce la legna in questo episodio A te ti metto qua A te ti metto qua E qua Oh no, non ci voglio Oh mio Dio Perché perdo i materiali in modo stupido Fatemi capire Cioè io veramente non lo so Vai, vai, vai E vai E vai E vai E vai E ultimo non posso maledizione Alberini Palme Eccomi qua Sono arrivato eh Mi raccomando Datemi tante foglie Grazie gioco Meno male che mi ascolti A te ti metto qua Ovviamente a te ti metto qua E a te ti metto qua Ed ho finito per ora la prima parte Adesso beviamo un sacco Perché se no qua la signora mi morirà di sete Che poi un'altra cosa ragazzi Posso poggiare le cose qua? Fatemi vedere No, non posso maledizione Mi devo fare i pilari Pensiamo un attimo Come potrei farli? Stavo pensando Metto uno qua Così dovrebbe darci la possibilità Di craftare tutto intorno qua Perciò aspettate Allora facciamo così Craftiamo il pilare A te ti metto qua E vediamo se possiamo adesso Craftare tutto quanto intorno Sì Perfetto Allora Facciamo così Adesso Stavo pensando Il secondo piano dove lo faccio? Il secondo piano lo faccio tipo qua Per favore dimmi che lo spazio mi basta Dimmi che ho calcolato tutto quanto Sì Ho calcolato tutto quanto nel modo perfetto Che poi ragazzi Ad essere sincero Io qua devo fare soltanto il secondo piano Quindi in teoria posso fare anche così Cioè non voglio sprecare troppo spazio Ah un dilemma ragazzi Allora facciamo così A te ti metto qua E a te ti metto qua Suppongo Ok Però non mi basteranno gli spazi per gli altri Perché qua non lo posso mettere il pilare Vaffan bene Il gioco schifoso Ti odio tantissimo Ok Ti metto qua Eh Fuck Ho posizionato male le scale Non ci posso credere Veramente Ho calcolato tutto quanto A voi vi metto tipo qua Perfetto Così ci posso passare Sì benissimo Qua ci metto il pilare Eh ho visto lo squalo che passava in modo molto sospetto Dove dimmi di sei andato Oh schifoso Madonna Perché Perché mi devi rompere così tanto le palle ogni due secondi Non mi posso girare che tu stai già lì a mordere qualcosa Allora pensiamo Adesso ditemi per favore Che ho calcolato tutto quanto nel modo esatto Vediamo un attimo Flor dimmi Che ho fatto tutto nel modo giusto Dai Non ci saranno problemi con impoggiare le cose Vero Vai Vai Ehm Mi basta lo spazio per salire così Cioè se faccio questo mi sa che non riesco più a salire ragazzi Sì Va bene quindi Più o meno dovrebbe essere così Il piano di sotto l'abbiamo già fatto Dai non è così tanto male Adesso vi faccio anche qua il secondo muro del secondo piano E penso che basta così ragazzi Quindi Ehm Vediamo un attimo cosa mi serve Perché qua è tutto quanto diverso Oh mio dio Non è possibile Va bene facciamo finta di niente Non lo devo guardare Basta che io non guardo questa cosa Ehm No No Mi fermo Non voglio perdere materiali Non voglio perdere materiali Cioè se io vedo che tutto quanto va verso questa direzione Facciamolo andare tutto verso questa direzione no Cioè non possiamo farlo girare di colpo Maledizione Vai Metto tutto quanto qui e vaffan bene Vediamo Dobbiamo fare questo qui Ok quindi Allora facciamo qua 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 dovrebbe esserci quello con la finestra Quindi facciamo qui Facciamo qui Giriamo Metto a te qua Affan ho sbagliato mi sa Allora facciamo così A te ti metto qua Sì lo sapevo che avevo sbagliato Oh mio dio Bastardo Ti odi Ah ah Mi sta pure attaccando sto schifoso Ricraftiamo le cose perché Shark è un bastardo Vaffan bene Shark Ti Oh bene non lo so Secondo me per questo episodio Io posso finire anche qua ragazzi La casa più o meno l'ho fatta Quasi quasi mi sta venendo voglia di sostituire tutti i muri Con quelli con la finestra Perché forse potrebbe avere un bell'aspetto Ma sinceramente Non oggi ragazzi Comunque scrivetemi che cos'altro potrei fare Tranne la casa schifosa Che tanto ormai l'ho già fatta Ehm Sinceramente se proprio farò un altro episodio Perché Non ho Non so più cosa fare in questo gioco Non ci sta molto da fare Perciò non saprei Se avete qualche suggerimento ragazzi Scrivetelo nei commenti Mentre io come sempre Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Dato una zampata sul mi piace Lasciate un commento Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao